Il cordoglio di tutte le forze politiche, c'è stato nell'aula di Palazzo Madama un minuto di silenzio questa mattina, un profilo di Macaluso nel servizio di Luigi Nardo, poi linea allo studio. A Portella della Ginestra ci tornò dopo tantissimi anni, l'ultima volta era il 1947, aveva 23 anni allora. Emanuele Macaluso nasce a Caltanissetta, in quella Sicilia dove i poveri erano poveri fino alla fame e lottavano anzitutto per la propria dignità. Una buona parte della sua formazione Macaluso la compie nella CGL, quella di Di Vittorio, che lo vuole alla segreteria regionale siciliana del sindacato. Poi il Partito Comunista aderì al PC allora clandestino nel 1941, in una cellula di cui faceva parte anche Leonardo Sciascia. Con lui e Vittorini strisse un importante legame culturale e di amicizia. Togliatti volle Macaluso al suo fianco. Riformista del gruppo dei miglioristi, aggettivi all'epoca scomodissimi da portare, coniugò l'attività politica con quella giornalistica, fino alla direzione dell'unità, dall'82 all'86. Poi alla guida del riformista. A Montecitorio Macaluso arriva nel 63. Poi dal 76 al 92 il senatore fu al fianco di Berlinguer, lungo tutta la sua segreteria. Un rapporto strettissimo tra di loro. Macaluso era considerato un rompiscatole quasi eretico dentro il PC. Non si iscrissi al PD e gli ultimi anni, senza retoriche e con la massima schiettezza, criticò quella sinistra che diceva il legittimo desiderio di governare, ma ha finito per essere l'unico fine e non ha saputo ascoltare gli umori né rappresentare i bisogni della società. Andiamo a Bruxelles, ora fare bene e fare bene.